Hai la pistola con te? Credevamo ci fossero due killer, ma sono tre. Cosa avete trovato? Una bomba collegata all'uscita con un interruttore a vibrazioni. Dove vai? Qualcuno deve andare a fermare quei criminali. Andiamo. Devo aiutare i miei colleghi lì. Giovedì alle 21.20. In prima visione assoluta. Oh mio Dio. FBI Most Wanted su Italia 1. In prima visione assoluta.